Mister, cosa l'ha spinta, cosa l'ha convinta ad accettare la proposta del Teramo? Mi ha convinto le parole di Andrea e di Sandro perché mi hanno messo al centro del progetto tecnico e questa è la cosa che mi ha fatto enormemente piacere perché sanno che prendendo me ho una buona conoscenza nei calciatori, mi piace collaborare nel costruire una squadra e quindi questo mi ha fatto enorme piacere. Indubbiamente è stata la cosa che mi ha fatto scegliere Teramo perché mi hanno dato quella libertà di azione che cercavo. Avete già iniziato a lavorare insieme anche per quanto riguarda il mercato anche se le ha detto che insomma il mercato lo fa il direttore però insomma qualcosa ha consigliato e sta consigliando. Lo facciamo insieme perché è giusto così, loro hanno in mano il budget, io non ce l'ho e quindi io posso chiedere dei giocatori che rientrano in un certo tipo di budget ma soprattutto nella funzionalità tecnico-tattica di un progetto come il mio, tutto lì. Qual è il calcio di Tedino? Ma non è il calcio mio, è il calcio propositivo, è un calcio ricco di entusiasmo, di aggressività, di muovere la palla veloce vediamo se siamo in grado di farlo anche a termo. Oltre che a sposare il progetto ha sposato anche le ambizioni del Teramo, in particolare del Presidente le ambizioni che vorrebbero insomma salire di categoria, il prima possibile? Beh, cercheremo di fare il massimo per le ambizioni della proprietà del Presidente Se bastasse dire che vogliamo andare in Serie B e ci dessero qualche punto solo per questo magari lo diremo tutti ma non è così, per fare dei risultati ci vuole la maglia sudata ci vuole lavoro duro, energico, ci vuole grande filosofia, grande voglia, grande determinazione da parte di tutti, anche vostra e quindi lottiamo insieme perché la città di Teramo abbia delle ambizioni e abbia delle convinzioni notevoli. Ha uno staff importante, uno staff anche insomma con una figura nuova per le nostre latitudini quella insomma di un assistente tecnico, quindi vuol dire che lavora molto anche in condivisione con i suoi collaboratori. Ma per me lo staff è sacro, è la prima cosa che ho chiesto ai direttori quindi mi hanno accontentato per portare dei degni professionisti, della gente che lavorano per questa azienda in maniera veramente maniacale, sì. Ma i tifosi del Teramo devono sapere che noi avremo grandi motivazioni, grande energia e vorremmo in tutte le maniere che il Teramo esportasse in giro per l'Italia un grande calcio.